Una pioggia ininterrotta ha tenuto lontano la folla da piazza di Siena, teatro del 25esimo concorso ipico internazionale di Roma. Si disputa il premio Pincio, Raimondo D'Inseo non ha alleata la fortuna e abbattendo l'ultimo ostacolo perde un sicuro piazzamento. Né migliore sorte tocca l'argentino tenente colonnello Also Garai sul grigio Oleander. Vincitore della gara dopo un eccellente percorso netto risulterà l'asso francese Doriola, un veterano di piazza di Siena. In sella al magnifico saltatore Charleston eccolo superare i difficili ostacoli e volare verso la vittoria. Con questa affermazione la Francia si presenta come la più temibile concorrente per i cavalieri italiani in vista del cimento più atteso alla Coppa delle Nazioni.